buongiorno a tutti allora oggi facciamo un video un attimino fuori dalle solite cose perché è un video che dovrebbe farvi riflettere purtroppo lo vedranno quattro gatti un canarino però fa niente perché mi andava di farlo perché visto è considerato che ogni tanto mi va di deprimermi un po e allora vedo su youtube le cosiddette storie tristi e questa è appunto una di queste si chiama storia triste con un particolare significato non sto a farvi la preludio vi dico solo la situazione allora siamo in una scuola probabilmente americana non hanno specificato e a un certo punto una ragazza scoppia a piangere prende il suo zaino esce e scappa dalla dalla classe un ragazzo che vede la scena e incurante di quello che può succedere anche lui si mette in seguirla si mette in seguirla finalmente la raggiunge spiaggia e vede che è lì che piange si si siede vicino gli dice perché piangi dai smettila di piangere sei così carina quando ridi e lei risponde freddamente lasciami in pace cosa vuoi eccetera ma non fa il tempo a dire quelle parole che sviene allora lui chiama giustamente l'ambulanza e mentre l'aspetta si rende conto che lei si taglia perché ha dei tagli sulle braccia arriva l'ambulanza mentre lui aspetta che la medicano eccetera sta lì fuori dall'ospedale guarda nel suo zaino vede tutti i temperini rotti quindi ci sono tutte le lamettine dei temperini con quali lei si taglia e poi legge anche quello che c'è scritto che tutti la prendono in giro tutte le dicono che deve morire eccetera allora lei scrive vabbè li farò contenti morirò lentamente tagliandomi eccetera lesionandomi al che lui si rende conto di essere una schifezza perché praticamente era tra quei ragazzi che la prendevano in giro quindi sentendosi una schifezza si mette a piangere anche lui e quando lei esce finalmente dall'ospedale lo vede piangere gli dice perché piangi e lui gli dice guarda ho letto quello che hai scritto eccetera mi dispiace mi sento una schifezza gli fa ma scusa ma tu sei tra quelli che vi prendevano in giro cosa vuoi cioè e lui gli fai lo so e mi dispiace anzi adesso parlerò con questi ragazzi vediamo di fargliela smettere di prenderti in giro infatti arrivano questi questi ragazzi questi bulletti eccetera lui gli spiega la situazione questi anziché sentirsi delle merde scusate l'espressione gli rispondono a noi francamente di questa non ce ne frega niente vieni con noi lasciala per i fatti suoi eccetera eccetera che giustamente lui e parte rimanere basito perché non è normale che delle persone rispondano così gli inizia a dire ma come state eccetera questi anziché dire vabbè forse hai ragione lo picchiano perché giustamente in 5 contro 1 10 contro 1 lo picchiano e lo lasciano lo pestano a sangue e se ne vanno lei intanto viene la scena piange eccetera lo si rende conto che lui veramente ci tiene a lei lo accompagna a casa sua inizia a raccontargli anche mentre sono a casa va a far la spesa c'è non c'è vi tralascio queste cose qui comincia a raccontare la la sua storia che ha perso i genitori da piccola che ha vissuto con i nonni fino a 14 anni poi purtroppo anche i nonni sono venuti a mancare e lei fa la cantante di sera e di giorno va a scuola lui visto che comunque lei l'ha medicato eccetera gli chiede come ha fatto a sapere come fare le medicazioni e lei gli spiega che ha fatto un corso prima di iniziare la scuola di medicina e quindi sa fare queste cose quindi iniziano a frequentarsi da amici iniziano a frequentarsi da amici però a un certo punto lui le dice una cosa gli dice guarda ho trovato una ragazza mi sono messo assieme a lei e a lei crolla il mondo perché si era innamorata finalmente ha trovato qualcuno che la considerava che la teneva in la considerava importante c'era per lei eccetera e quindi cosa fa gli dice vabbè fantastico eccetera lui le dice tranquilla e guarda che anche se ho la ragazza tu sei la mia cucciolotta ti continuerò a stare vicino eccetera non tagliarti più lei dice va bene non ti preoccupare guarda c'è un impegno prende va via e da quel momento comincia a evitarlo lui la chiama lei non risponde la chiama a casa non risponde a scuola non lo considera lo evita esce di scuola lei esce di scuola lo vede insieme alla ragazza comincia a piangere prende corre a casa quindi situazione veramente peggio di prima infatti lei ricomincia a tagliarsi nonostante gli avesse promesso di non farlo più al che dopo un po lui vedendo che lei non gli risponde va a casa sua gli suona lei apre se lo trova davanti e fa la fredda dice cosa vuoi cioè e lui dice guarda devo dirti una cosa lei sì dai dimmi fa entrare dimmi e lui dice guarda ho lasciato la mia ragazza perché mi sono reso conto che senza di te non riesco a vivere sono innamorato di te al che lei si arrabbia gli dice guarda che se ti evitavo era perché io mi sono innamorata di te ma tu eri insieme a un altro io ci soffrivo perché tu stavi insieme a un'altra al che lui la braccia eccetera e si rende conto che lei è ricominciata a tagliarsi perché prendendole il braccio vede che sanguina cioè si vede il sangue che esce dalla dalla manica al che si arrabbia gli dice hai ricominciato a tagliarsi perché l'hai fatto eccetera eccetera e lei gli dice perché tu mi hai tra virgolette ti sei messo con un'altra eccetera mi hai abbandonato tra virgolette perché lui c'era però io essendo innamorata di te al che lui dice guarda che se lo fai di nuovo io mi ammazzo e lo tranquillizza e e quindi poi iniziano la loro storia e la cosa finisce lì e ci sono tutti gli ammazzoni monumenti per coloro che magari hanno quella mezza idea di bullizzare qualcuno e quindi spiegano prima di farlo pensateci bene prima di offendere qualcuno pensateci bene se avete sbagliato non fatevi problemi a chiedere scusa se vedete qualcuno da solo sempre da solo eccetera cercate di portarlo nella compagnia non lasciatelo da solo e tutti questi consigli però ripeto sono consigli che sono abbastanza inutili perché se la risposta che molti daranno a guardate che state portando al suicidio una persona e questi ti rispondono non ce ne frega la beata fava cioè sono abbastanza inutili ed è qui il problema perché non è la prima volta che sento racconti del genere in cui la gente gli si dice gente inteso gruppetto bulletti che si divertono a prendere in giro lo tra virgolette sfigato o sfigata di turno secondo la loro concezione perché comunque la foto che ho visto nel video è di una bella ragazza non è un uno può dire è un mostriciatolo questi ne hanno approfittato per quello è sbagliato lo stesso ma possono avere anche se è sbagliato il termine avere la tra virgolette una giustificazione idiota ma hanno una giustificazione idiota ma in questo caso non c'è neanche una giusta perché veramente una gran bella ragazza quindi perché la devi prendere in giro non lo si sa perché la battuta tra amici la si fa sempre ma è una battuta che finisce lì ma quando diventa una cosa continuativa eccetera e diventa una cosa che può portare appunto a far sentire una persona una schifezza e automaticamente a portare questa persona a stare da sola e a fare cose sbagliate che possono portare anche a conseguenze estreme il problema è appunto ma se un genitore sente gli vanno a dire guardi che suo figlio insieme a tizio caio sempronio sta portando una persona a suicidio comportandosi così gli risponde ma francamente se uno non sa stare agli scherzi sono affari suoi se uno non sa stare agli scherzi non sarà abituato neanche nella vita davanti alle difficoltà quindi stanno semplicemente facendo selezione naturale e affari loro sono ragazzate eccetera perché è probabile qualche genitore potrebbe dire prendere il figlio per le orecchie di che cavolo stai facendo e qualcuno potrebbe dire sono ragazzate l'abbiamo sentito spesso dire se sono ragazzate anche davanti a cose gravi di cui se ne parlava in televisione perché si tende sempre a vedere o tendono sempre a vedere visto che non sono genitore i figli come non si toccano o dei piccoli marchesini del grillo quindi niente era un video che voleva farmi fare per farvi un attimino riflettere sono stato un po troppo lungo mi dispiace spero che abbiate tempo e voglia di vederlo fare delle riflessioni se volete fare dei commenti ben vengano spero che nessuno si offenda per la parola giustificazione idiota che ho detto perché magari qualcuno potrebbe dire non ci sono giustificazioni gli do perfettamente ragione però era giusto per far capire che magari qualcuno determinate cose le fa per un motivo stupido ma purtroppo tra giovani le cose possono succedere però ripeto se lo fanno in maniera continuativa e vedono che quella persona la prende male magari è meglio se smettono subito perché c'è chi magari riesce a stare allo scherzo e capisce che è uno scherzo fino a se stesso in qualche caso invece proprio da persecuzione diventa una cosa antipatica niente ho già parlato troppo spero di avervi fatto appunto riflettere spero che il video vi piaccia e ci sentiamo alla prossima ciao